Da oggi fino a giovedì 13 luglio le Alpi Bielesi saranno invase pacificamente da camminatori di tutta Europa. L'associazione Servas ha scelto le nostre montagne per il proprio meeting annuale Sentieri Insieme 2023. Dopo i primi giorni di accoglienza, attività ed escursioni, una sessantina di soci saranno accompagnati dalle guide di Wool Travel Experience in quattro trekking di tre giorni. Zaino in spalla con partenza e arrivo sempre a Europa. Percorsi e tappe diverse, come diverse saranno l'intensità e la lunghezza. Andranno a visitare camminando diverse vallate con paesaggi da montani ad alpini, dai boschi alle praterie di alta montagna. Cammini che mostreranno la grande bellezza delle vallie delle Alpi Bielesi con la loro biodiversità, la storia e la cultura di un territorio piccolo ma molto variegato. Partendo dai grandi alpinisti, Quintino Sella, passando ai personaggi storici illustri, Rosazza, Pistolet, Micca, agli industriali, Piacenza e Zegna, storiche vie di comunicazione, pellegrinaggi, toccando ben tre santuari, Europa, Graglia, San Giovanni, per arrivare a conoscere chi oggi vive e lavora in queste splendide e verdi vallate. Si esploreranno anche le aree protette Pielesi e Valdostane, l'Oasi Zegna, il Sacromonte di Europa e la riserva naturale del Monte Mars. Questi i trekking e le loro tappe. C'è il Medium Minus, che esce dalla conca di Europa e permette di immergersi nella confinante Valle Elvo, un tracciato che coincide in parte con quello della grande traversata del Bielese, fino al santuario di Graglia dove si pernotta. Secondo giorno si passa per l'antico borgo di Bagneri, si raggiunge la trappa di Sordevolo e il terzo è dedicato al rientro ad Europa passando per la Muanda. C'è poi il Medium Plus, primo giorno partenza dal Favaro, Saliano, paese natale dell'eroe piemontese Pietromicca, risalendo poi al Bocchetto Sessera, storico punto di passaggio tra Bielese e Valsessera, frequentato ancora dai Margari. Il secondo giorno si scende a Campiglia, attraversando varie borgate e risalendo poi al santuario di San Giovanni d'Andorno. Al terzo giorno si ritorna ad Europa passando per la cresta che collega il Monte Cimone al Becco e al Cucco. Il Trekking Hard Minus si svolge a cavallo del confine tra Piemonte e Val d'Aosta, attorno al Monte Mars e alla sua riserva. Si percorre ritroso lo storico percorso della processione Fontainemore, Europa. Si valica il Colle della Barma e si raggiunge il rifugio. Il secondo giorno ci si inoltre in Val d'Aosta scendendo verso il verdissimo Piancu Marial, per risalire poi al Coda, posto cavallo dello Spartiacque Valle Cervo-Valle dell'Is. L'ultimo giorno si rientra a Europa passando per la Bocchetta del Lago, il Mucrone e il Sacromonte di Europa. L'ultimo trekking, il più impegnativo, prevede l'uscita dalla Conca per andare in Valle Cervo e quindi Valle d'Aosta. Dopo essere passati per il Colle della Colma si tocca il santuario di San Giovanni d'Andorno, si attraversa il curioso e interessante centro storico di Rosazza e si arriva alla panoramica delle Selle, dove si pernotta. Il punto di forza è la splendida mulattiera che transita per il Colle della Gragliasca, alla quale segue la discesa, in un severo ambiente di alta montagna, al rifugio della Barma. Per tornare a Europa si segue la parte finale del percorso della tradizionale processione che ogni cinque anni raggiunge il grande santuario biellese, partendo dal paese valdostano di Fontanmore.